Da sempre lo sport ha favorito un universalismo caratterizzato da fraternità e amicizia tra i popoli, concordia e pace tra le nazioni, da rispetto a tolleranza, armonia nella diversità. Incontrando in Vaticano i dirigenti e gli atleti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Papa Francesco ha rimarcato che lo sport può essere un valido mezzo per superare i conflitti causati dalla violazione dei diritti umani. Oltre a invitare le persone a superare i propri limiti mettendo in campo fatica e sacrificio. Pensando alla candidatura di Roma per i giochi olimpici del 2024 e al lavoro educativo che il CONI fa nelle scuole, il Pontefice ha auspicato poi che lo sport sia sempre accessibile a tutti, attento ai più deboli e alle fasce più precarie della società. Lo sport sia inclusivo delle persone con diverse disabilità, degli stranieri, di chi vive nelle periferie, e ha concluso uno sport non finalizzato all'utile ma allo sviluppo della persona umana con stile di gratuità.